Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. In apertura vogliamo fare gli auguri ad un ragazzo che oggi compie 18 anni, quindi naturalmente diventa maggiorenne, si tratta di Luca Ricciardi e quindi vogliamo augurare a Luca veramente un futuro ricco, denso, di ogni soddisfazione, di ogni genere, perché insomma quando si affronta la vita, si compiono 18 anni, evidentemente si spera sempre in un futuro radioso. Noi glielo auguriamo di tutto cuore, quindi a Luca Ricciardi, ai genitori Franco e Silvia, alla sorella Alessandra e anche allo zio Michele Ricciardi, nostro grande amico, il nostro fisioterapista preferito. Ebbene vanno gli auguri naturalmente più sinceri da parte mia personalissima e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise. Inoltre la nostra emittente proprio oggi vuole dare il benvenuto anche al piccolo Giuseppe Melfi che è venuto alla luce nei giorni scorsi presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso. Auguri naturalmente ai neogenitori Antonella Di Rienzo e Leo Melfi, quest'ultimo giocatore di calcio a 5, per l'arrivo di Giuseppe, ai nonni Michele e Giuseppina Di Rienzo e Assunta e Giuseppe Melfi. Vanno davvero le nostre congratulazioni. Mondiali in corso di svolgimento in Russia. Ieri è terminata la fase a Gironi. Da domani il via agli ottavi. Nel pomeriggio di ieri si sono concluse le fasi a Gironi del Mondiale in corso di svolgimento in Russia. Per quel che riguarda il girone H, la Polonia ha battuto il Giappone per 1-0 con un gol realizzato da Bednarek al 14esimo del secondo tempo. Invece per quel che riguarda l'altra partita, la Colombia ha battuto il Senegal per 1-0, ha realizzato Mina al 29esimo del secondo tempo. Per quel che riguarda questo girone H, si è verificata una situazione di assoluta parità per la prima volta nella storia del calcio mondiale, o per meglio dire dei mondiali di calcio, ha deciso la qualificazione a favore del Giappone, che ha concluso a 4 punti con il Senegal. Praticamente queste due nazioni erano pari in tutto. Ebbene ha deciso il numero dei cartellini o se volete il fair play, perché in sostanza il Senegal ha avuto più ammoniti del Giappone e quindi per questo discorso è passato proprio il Giappone insieme alla Colombia, che naturalmente si è qualificata al primo posto del girone. Quindi in sostanza c'è stato questo passaggio del turno agli ottavi da parte del Giappone ed anni del Senegal, che però conosceva i regolamenti molto prima che iniziassero i campionati del mondo. E quindi si sapeva benissimo che in caso di parità in tutto ci sarebbe stato appunto il fair play a decidere la qualificazione. Quindi avanti per il girone H, Colombia e Giappone. Per quanto riguarda il gruppo G, ieri sera l'Inghilterra, il cui allenatore ha fatto molto turnover, infatti ha schierato molti giocatori che finora non avevano fatto parte della compagine titolare dei mondiali, tanto per fare un esempio, Harry Kane che finora è praticamente il cannoniere degli inglesi, è rimasto in panchina per tutta la gara. Ebbene dicevamo l'Inghilterra ha perso 1-0 contro il Belgio, ha segnato Januzai tra l'altro un bellissimo gol, con un tiro a giro di sinistro al sesto minuto del secondo tempo. Quindi Belgio avanti, naturalmente insieme agli inglesi, visto e considerato che le altre due squadre erano ormai già a casa, prima anche dell'ultima partita. A proposito delle altre due squadre del girone G, la Tunisia ha vinto contro Panama per 2-1. è andato in vantaggio proprio Panama con Meriah che ha realizzato un'autorete, quindi Meriah della Tunisia ha portato in vantaggio i panamensi al 33esimo del primo tempo. Nella ripresa c'è stato il ribaltamento del risultato, Ben Youssef ha pareggiato, e poi il gol a partita del 2-1 è stato realizzato da Krazzi. Ebbene, per quel che riguarda il girone, come dicevamo, avanti Belgio e Inghilterra, naturalmente la Tunisia ha lasciato il mondiale con un successo che probabilmente era anche quello che la squadra africana cercava. Calcio di Serie D, la famiglia De Lucia ha annunciato dunque di voler lasciare il campo basso. I tifosi rosso-plusi sono riuniti nella giornata di ieri per confrontarsi. Dopo la brusca comunicazione della famiglia De Lucia di lasciare il campo basso, lo ripetiamo dopo meno di due settimane dalla proclamazione di programmi ambiziosi, il tifo campobassano ha assorbito, attonito la notizia. A dire il vero, questa conclusione emessa dalla proprietà De Lucia era abbastanza nell'aria da quanto filtrava, o sarebbe meglio dire non stava filtrando negli ultimi giorni. Una storia che assume i connotati della farsa in piena regola poco meno di due settimane dall'11 luglio, data ultima per iscriversi al campionato di Serie D. I tifosi rosso-plusi sono riuniti nella giornata di ieri per confrontarsi su possibili misure da adottare in una situazione di emergenza così grave. Tante le ipotesi al vaglio nei limiti delle possibilità della stessa tifoseria rosso-blu. Qualcuno avrebbe proposto di chiedere a 3.000 famiglie campobassane di versare ogni mese una somma pari a 10 euro per un periodo di 10 mesi. La situazione è davvero complicata. De Lucia ha rinunciato, di fatto consegnando gratuitamente il titolo al sindaco, gratuitamente un avverbio da prendere con le pinze. Se si considera che la società dovrebbe essere gravata ancora dal debito collerario e da circa 80.000 euro di spettanze arretrate ai calciatori di questa stagione. Questi i debiti che filtrano come indiscrezione, ma non è escluso che ce ne siano anche degli altri. Anche la stessa associazione, noi siamo il campo basso, non vuole rimanere impassibile di fronte a questo stato di cose. I membri dovrebbero incontrarsi in giornata proprio per studiare eventuali soluzioni in vista del futuro. Il problema ovviamente non consiste solo nel mero atto dell'iscrizione al campionato, ma proprio nella prossima stagione agonistica, detto Insordoni, nel partecipare al torneo stesso. Da quanto è dato sapere, anche alcuni esponenti del comitato ieri avrebbero sentito a telefono De Lucia per avere quantomeno delle delucidazioni sulla sua scelta così brusca e drastica al tempo stesso. Il patron rosso-blu avrebbe confermato la volontà di lasciare proprio perché non ha aiutato da nessuno. La società, cioè il resto dei soci che la compongono, starebbero anche cercando in una sorta di lotta contro il tempo una nuova proprietà per il campo basso. La speranza rimane sempre l'ultima a morire, ma un concetto va sottolineato con forza. Il campo basso è una società malata, cioè oberata, di debiti ormai da più di due anni a questa parte. Prova ultima ne siano le quattro vertenze arrivate pendenti dalla stagione 2016-2017. Negli anni si è fatto di tutto per mandare avanti una baracca che forse si sapeva essere già quasi compromessa. È oggettivamente difficile in quarta serie rialzarsi da una situazione debitoria così pesante. Di per sé il tempo aumenta i debiti. A Campobasso è stato così dal 2013 in avanti la stagione delle spese folli, senza sapere dopo chi avrebbe potuto pagare. Ad Agnone oggi è in programma un raduno di Under al Civitelle sotto l'occhio vigile del nuovo allenatore dei Granata, Meco Monaco. Ad Isernia invece i vertici societari si riuniranno nuovamente domani. probabilmente ci sarà anche la decisione sul nuovo tecnico che allenerà i Bianco Celesti l'anno prossimo. Atletica questa mattina conferenza stampa di presentazione del primo trofeo villaggio Casina del Duca. Memorial Cavalier Antonio Farina. Nicola Virginillo, presidente dell'ASD Running Pentria. Ci sarà il primo luglio, domenica primo luglio, il primo Memorial Antonio Farina nella location di Pescolanciano. Il percorso di questa gara ce lo puoi illustrare? Sì, intanto voglio iniziare con dare i ringraziamenti a chi ci ha ospitato perché non è usuale tutti i giorni essere chiamati e poi prodigarsi a mettere su una manifestazione. Comunque siamo orgogliosi di stare in questo paese, diciamo che siamo riusciti a creare un percorso di qualità molto tecnico e di conseguenza penso che ci sarà molta battaglia fra i big per l'ampito podio del primo posto. Poi, cosa dire, una nota a favore di questo bel paese pescolanciano di cui nei giorni scorsi siamo stati a fare dei sopralluoghi e non posso dire altro che il Molise è pieno di meraviglie. Per cui invito tutti a raggiungerci domenica 1 luglio anche perché dopo della gara, oltre alla parte tecnica, abbiamo anche l'ausilio della piscina e passare una giornata insieme fra sport e natura. Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte fino a domani, quindi sabato. A chi si rivolge? A quali atleti si rivolge questa gara? Ma purtroppo il calendario è molto ampio, infatti domenica ci cavalliamo con altre gare nell'Interland, però diciamo che nella regione Molise siamo i soli nella regione Molise per cui invitiamo tutti gli atleti, ad oggi che è venerdì siamo già 100 iscritti per cui speriamo, nella speranza che ci accompagna pure bel tempo e che gli atleti stessi, con i vari accompagnatori, raggiungiamo un bel numero di atleti per cui domenica ci sono tutti i presupposti per passare una giornata insieme. Don Pietro, parroco di Pescolanciano e di Chiauci, un parroco molto vicino allo sport, sport e sociale, quindi nel suo caso con la sua parrocchia, vede veramente il suo cuore e il suo cuore trenante. Certamente, lo sport sempre aiuta i giovani, innanzitutto con la formazione, praticare lo sport già è un socializzare, già è un mettersi in gioco, sia nelle nostre comunità, sia Chiauci già con una squadra di calcio presente da alcuni anni, già qua a Pescolanciano si sta riprendendo ancora con un nuovo gruppo per il calcio, mentre la tradizione già della pallavuolo che è di tantissimi anni, quindi è un orgoglio proprio di Pescolanciano. Lo sport aiuta sempre, perché appunto, come dicevo prima, permette di socializzare, permette di allargare gli orizzonti, la bella esperienza per esempio vissuta dai piccoli della pallavuolo quest'anno che sono andati fuori, sono andati a competere con altre squadre, dove non conta perdere o vincere, ma conta già l'esserci, il partecipare, perché uscendo fuori già incontri in realtà è un'apertura al mondo e alle bellezze che ci sono attorno. E anche in questo caso nel Memorial Antonio Farina, anche lei ha dato il suo supporto. Certamente, sono altre iniziative da mettere accanto e da iniziare, questa bella occasione di ridare anche attraverso la gara podistica, ma sempre attraverso lo sport, l'occasione di incontro, di riscoprire anche delle tradizioni vissute, delle persone che ci hanno accompagnato, che vogliamo ricordare attraverso lo sport. Noi lo facciamo anche in altre occasioni, attraverso la festa di Sant'Anna, ricordare le persone che sono state care, che ci hanno trasmesso un insegnamento e questo è bello, significativo, importante. Calcio A5 di Serie B, terza riconferma e terzo rinnovo biennale per la Chaminade Campobasso. Dopo gli accordi trovati con gli spagnoli Canzio e Pablo, anche il portiere Silvio Iacovino continuerà a vestire il rosso-blu del club del capoluogo di Regione. Termina oggi la terza edizione del torneo comune di Ripalimosani. Questa sera con fischio di inizio alle 21.30 la finalissima del quarto torneo di calcio di Ripalimosani, appuntamento alla bellissima struttura del Marco Vita Antonio, dunque per l'ultimo atto di questa edizione. Diretta per noi di Telemolise Sport che seguiremo l'incontro valido per il trofeo tra AP di Ripalimosani e USD Città del Vaticano. Queste le due squadre arrivate a contendersi il titolo di campione. Grande attesa per la finalissima, considerato che le gare conclusive del torneo hanno sempre visto punteggi pirotecnici e in due circostanze su tre edizioni si è arrivati ai calci di rigore. USD Città del Vaticano, ovviamente nome simpatico anche in virtù di Divise Celesti, è una squadra di ragazzi terribili, amici nella vita e poi sul campo per questa manifestazione estiva. Moffa, Cappelletti, Cianci di Genova, Martinelli, Santoro, Romeo, sono tutti ragazzi che giocano in eccellenza o meglio anche negli States, come nel caso di Cianci di Genova e prossimamente Martinelli. Chioccia del gruppo Bomber, Carmine, Guglielmi. L'AP di Ripalimosani, padrone di casa, è guidato saggiamente da mister Antonio Ventivoglio, tecnico della squadra che si è laureata campione in Molise Cup nella stagione appena conclusa e prossima a chiedere ripescaggio nel campionato di promozione con tutti i titoli del caso. Dunque ossatura del team che ha giocato il campionato di prima categoria, più qualche rinforzo come Lisi, Barletta, Facchino e Leo Melfi, Bomber di calcio a 5 a suo agio anche nel calcio a 11. Dunque si preannuncia una finale combattuta fra un team frizzante e uno più esperto con la voglia di difendere al massimo il teatro casalingo del Vita Antonio. Ricordiamo che in semifinale Città del Vaticano ha superato Whatsapp 2 a 1 mentre Ripalimosani ha battuto sempre 2 a 1 i campioni in carica del Baranello con reti di Simonetti e Nardacchione. Appuntamento a stasera dunque, ore 21.30, finalissima. Telemolise Sport. Prosegue la fase di qualificazione del torneo Madonna del Carmine di Riccia. Ieri al Poce si sono affrontate Kiss Bar contro Scarnata Costruzioni. La gara è terminata 3 a 2. Si torna in campo lunedì per il girone A alle 21.15. Pizzeria Darino contro Ideal Mobile. Per il calcio giovanile l'Associazione Italiana Allenatori è stata per la prima volta in Molise con il camp estivo. Stefano Ghisleni, coordinatore del Dipartimento Junior dell'EC, siete in Molise a Campobasso con i Sanniti, esperienza nuova, esperienza positiva. Sì, è una grandissima esperienza. L'obiettivo del Dipartimento Junior dell'Associazione Calciatori, dipartimento coordinato da Simone Perrotta, è proprio quello di avviare delle collaborazioni con società dilettantistiche dove ci sono degli ex e degli ex che hanno dei valori importanti da trasmettere, che sono degli esempi educativi forti, non solo sotto l'aspetto tecnico. Qui noi abbiamo Antonello Corradino che per noi è un esempio importante e dobbiamo valorizzare la sua figura e l'attività che fa per i bambini, per le famiglie, per i ragazzi. Tanti giovani che vi hanno seguito, vi stanno seguendo in questi giorni con grande attenzione e siete soddisfatti di come sta andando? Sì, i camp sono solamente una parte finale di una collaborazione che noi avvieremo con con la società e sono la parte finale della stagione. In realtà noi svolgiamo questa attività durante l'anno e è un lavoro tecnico, un lavoro educativo, un lavoro di incontro, di confronto con gli allenatori e con le famiglie. Noi riteniamo che le famiglie debbano collaborare con l'attività, con la società. Oggi, stasera, ad esempio, noi abbiamo invitato tutti i genitori a venire e faremo allenamento, quindi ci sarà un cambio di ruolo, i bambini andranno in tribuna e i genitori in campo. Quindi riteniamo che è necessaria questa collaborazione tra tutti i soggetti che incontrano il bambino che gioca a calcio. Si gioca sul campo ma anche fuori è importante l'aspetto della crescita, dell'educazione? Battete anche su questo? No, è una cosa fondamentale. Noi riteniamo che giocare a calcio sia insegnare calcio sia come insegnare un'altra qualsiasi materia, con la differenza che ovviamente il calcio è una materia aggradita ai bambini, ai ragazzi. Dobbiamo far capire a tutti, ai bambini e alle famiglie, che insegnare calcio fa parte della formazione del bambino e del soggetto e quindi riteniamo che sia veramente importante come si decide di allenare l'essere allenatore. E' in programma da domani presso il Convento Santa Maria della Libera di Cerce Maggiore la cerimonia di presentazione della mostra dei Gagliardetti delle squadre di calcio collezionati dai padri domenicani. Tommaso Miele, curatore di questa mostra dei Gagliardetti, storica anche per ricordare un parroco che ormai non c'è più. Sì, è una mostra al quale io tengo molto, visto che io sono nato e cresciuto nella zona del convento e il convento l'ho frequentato da bambino e tutt'oggi, insomma, per quel che è possibile, cerco sempre di andare a fare qualche visita. Siamo a Giuseppe Tuva, qui abbiamo deciso di fare questa esposizione, che non è più un'esposizione che una vera e propria mostra interattiva, perché si tratta appunto di questi Gagliardetti e diciamo che il mio ruolo all'interno di questa mostra è occuparmi appunto dell'allestimento e presa con entusiasmo e quindi all'interno della sala consigliare del Comune di Cerce Maggiore appunto verranno messi questi pannelli con questa esposizione della mostra, che sarà visitabile dal 3 al 13 di giugno con la presentazione il 30 e in occasione anche della festività della Madonna della Libera del 2 luglio. Quindi una mostra questa che non è dedicata soltanto agli sportivi, ma a tutti appassionati e a tutti fedeli. È così, questa è una cosa che ci tenevo a dirla, non è una mostra dedicata prettamente al pubblico sportivo, ma è anche un'occasione per chiunque voglia venire a visitare il nostro paese e soffermarsi nel nostro piccolo mondo anche all'esperienza di guardare questi cagliardetti, di poterli anche ammirare appunto per quel che rappresentano, che è un'esperienza di una piccola realtà, un'esperienza diciamo che ci porta un po' fuori dalla nostra piccola realtà che viviamo quotidianamente. Programmi futuri invece per Cerce, nell'ambito sempre di questi programmi? Sì, ora non lo so, dovremmo riorganizzare un po' le idee, sicuramente se questa mostra avrà il successo che noi ci auspichiamo proporremo altri eventi del genere anche attingendo magari ad altri tipi di fonti e di titoli storici che abbiamo custoditi nel nostro comune e nel nostro paese. Un invito quindi ad avvicinarsi a questa mostra, assolutamente. Ci mancherebbe, vi aspetto tutti, vi aspettiamo dal 3 al 13, siamo aperti sia la mattina che il pomeriggio, dalle 4 alle 10 il pomeriggio e quindi insomma penso ci sia tempo e chi ne ha voglia, noi siamo lì ad aspettarvi. Questa mostra poi ha anche un altro scopo, ce lo vuoi dire? Sì, durante la mostra chi vorrà ci può aiutare a raccogliere dei fondi che saranno destinati per comprare delle attrezzature al palazzetto dello sport di Cerce Maggiore o comunque delle attrezzature inerenti allo sport negli impianti che sono presenti a Cerce Maggiore. Quindi verrà allestita una cassa di offerte, chi vorrà potrà partecipare, saprà che la causa insomma è quella di comprare delle attrezzature sportive. Calcio Balilla è in programma sabato 7 luglio, la prossima tappa del torneo itinerante di Trevisonno, biliardi e giochi, appuntamento a Colletorto a partire dalle 17 iscrizioni già aperte per il calcio regionale, prime ufficializzazioni in eccellenza e promozione. Primi rumors di mercato per le società di eccellenza e promozione per tutte all'ordine del giorno, una riorganizzazione societaria. Si lavora e tanto a Campo di Pietra dove si stanno limando gli accordi per la collaborazione tra la società di eccellenza e la scuola Calcio Acli. Un progetto che punta alla valorizzazione dei giovani calciatori molisani. Il club bianco-rosso che quest'anno festeggia i 50 anni di attività è pronto a scendere in campo anche nei tornei regionali senior e non più solo giovanili. I due sodalizi devono solo ufficializzare un accordo praticamente già trovato. Questione tecnica, riconfermare Mimmo D'Aversa o puntare su Carmine Rienzo, storico tecnico delle Acli che ha sempre lavorato bene con i giovani? Il club deciderà nei prossimi giorni. A Termoli il presidente Castelluccio nei giorni scorsi ha comunicato che nella prima settimana di luglio svelerà il nuovo organigramma della società, contatti in corso anche per l'allestimento dello staff tecnico. Continuano i summit societari a Riccia. Il patron Ciccotelli ha registrato alcuni adi in società e sta sondando il terreno per riorganizzare il club. Solo dopo si potrà parlare di questioni tecniche. Intanto in promozione la cliternina ha mostro i primi passi ufficiali. Sarà Sandro Esposito, ex Castel Mauro, a dirigere in panchina la squadra bianco-rossa a Caudo Vato da Franco Ricci. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio.